12 anni fa, quando era ancora una studentessa dell'Università di Bologna, l'astrofisica Marta Burghe fece una scoperta sensazionale. Individuò una doppia pulsar, il primo sistema conosciuto di due stelle di neutroni pulsanti, una sorta di orologio cosmico estremamente preciso, in grado di verificare la teoria della relatività generale di Einstein. Quella, cioè, secondo cui lo spazio-tempo non sarebbe piatto, ma verrebbe curvato dalla massa dei corpi celesti. Abbiamo queste sfere pesanti e dense che ruotano molto velocemente e quindi sono ovviamente sostanzialmente molto difficili da frenare. Immaginatevi una città che ruota 800 volte in un secondo, con una massa di due volte il sole al suo interno, è impossibile da fermare. E quindi questo fa sì che questi oggetti siano veramente degli orologi, possono essere utilizzati come orologi cosmici di precisione. Marta Burghe, oggi ricercatrice presso l'Osservatorio di Cagliari, è stata ospite del liceo scientifico da Vinci di Maglie, dove ha illustrato agli studenti l'importanza della sua scoperta e le sue ricadute nella vita di tutti i giorni. Se noi, ad esempio, non tenessimo conto delle leggi della relatività, i nostri GPS, che sono in orbita intorno alla Terra, i satelliti che ci mandano il segnale per il GPS, sono in orbita intorno alla Terra, ci manderebbero dei segnali errati. Se noi non correggessimo per gli effetti della relatività generale, il nostro svolto a 3-10 metri ci sbatterebbe contro un muro, quindi abbiamo anche delle ricadute proprio nel pratico.